A Pordenone un altro pezzo importante di Viale Marconi si prepara a una storica riqualificazione. L'ex palazzo della Cattolica Assicurazioni, abbandonato da anni, verrà completamente ristrutturato. Un intervento che si inserisce nel più ampio rinnovo urbanistico del Viale. Sindaco, un altro tassello importantissimo nella riqualificazione generale di Viale Marconi. Credo che questa sia la dimostrazione che credere in un progetto alla fine poi paga. Viale Marconi è stato uno dei cantieri che sicuramente ha creato disagi, ha messo sotto stress la città. Ma era un disagio assolutamente giustificato. Da un lato abbiamo spostato una roggia che stava erodendo dei condomini. Dall'altro abbiamo portato ossigeno alla ghetta di San Giorgio che era in condizioni pietose. Abbiamo portato fognature che sono infrastrutture ambientali di fondamentale importanza nel 2021. La cui dotto la catolazione delle acume teoriche. Il doppio senso per garantire di poter fruire meglio di quel viale. Un miglioramento funzionale estetico, adesso anche un progetto luminotecnico. Tutto questo ha condotto non solo un immobiliare a decidere di ristrutturare totalmente con un bellissimo progetto l'edificio dell'ex murina, quella dell'ex cattolica assicurazione. Ma dall'altro lato sta spingendo anche imprenditori di insediarsi. Oltre a quelli che si sono insediati recentemente abbiamo appena avuto notizia che si sposterà anche a un'agenzia di viaggio che si inserirà un negozio stabile di mobili per 166 metri quadrati. A illustrare la riqualificazione del palazzo è l'assessore ammirante. Si tratta di un riuso di spazi che sono in stato di degrado da diversi anni e quindi in totale disuso. Ma non soltanto, ci sarà un importante efficientamento energetico dell'edificio, una modifica proprio importante anche di quella che è la pelle dell'edificio e quindi avrà un aspetto completamente diverso, materiali nuovi e tantissimo spazio nuovo dove poter migliorare la qualità della vita dei residenti con spazi aperti, terrazze e molto verde anche e soprattutto nel tetto ma anche in questi terrazzini che verranno ricavati all'interno di questo edificio. L'inizio dei lavori è previsto per l'estate. Nel frattempo, verso marzo, la riqualificazione urbanistica del viale sarà completata con una sorpresa. Insieme alla collaborazione della situazione panorama, della situazione storica della città abbiamo pensato di abbellire tutti i portici attraverso delle installazioni fatte con materiale particolare che riporteranno in dimensioni grandi molte fotografie dalla vecchia Pordenone, dell'archivio Argentin e anche Missinato. Quindi passeggiando lungo i portici di Viale Marconi si potrà non solamente guardare le vetrine ma anche questa mostra a cielo aperto.